Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Oggi andremo a vedere l'opinione che Fisher aveva degli scacchi. Perché Fisher odiava gli scacchi, o perlomeno ci sono questi video virali su vari canali per lo più in inglese che dicono che Fisher odiava gli scacchi. In realtà Fisher amava tantissimo il gioco degli scacchi, tanto che voleva cambiarlo a favore della creatività e a sfavore della memorizzazione e della preparazione. Perché stanno diventando un gioco sempre più meccanico. Si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Andiamo a vedere cosa diceva lui, il suo pensiero, e poi proviamo a trarne le conclusioni. Prima di iniziare ricordo a tutti di iscrivervi al canale, di mettere mi piace a questo video. Grazie a tutti coloro che lo stanno facendo e iniziamo. Ok, eccoci qui, sentiamo cosa aveva da dire Fisher. Effettivamente qui dice, io odio gli scacchi tantissimo, quindi non ho bisogno di soldi perché gli propongono di fare delle lezioni in Islanda. Quando lui stava ritornando in Islanda perché è andato in esilio in Islanda, gli hanno dato anche la cittadinanza, se non mi sbaglio. Non mi sbaglio il cese, non mi sbaglio il cese. Tu sbaglio il cese? Sì. Quindi non stai pensando a fare il grandmaster salario? No, no, no. Perché non mi sbaglio il cese, essere probabilmente il migliorista giverso giverso? Perché non mi sbaglio di che il cese è tutto? È tutto sui memorizzazione, è tutto sui prearrangimento. Ma la creatività? Sì, la creatività è più bassa sulla lista. Avete sentito? Odia gli scacchi perché secondo lui la creatività si trova proprio sotto, la parte sotto della lista. Quindi troppa memorizzazione, troppa preparazione, per questo odia gli scacchi. Ma in realtà gli scacchi attuali perché, poi vedremo cosa dirà nella stessa intervista, lui dice che in realtà lui ama gli scacchi in realtà. Odia gli scacchi così per come sono oggi e per come erano, non lo so, quando è stata fatta questa intervista, insomma, circa vent'anni fa, una cosa del genere. Però le cose non è che siano cambiate tantissimo. Ora qui la traduzione non viene fatta perfettamente, però un po', dai, si capisce. Per chi capisce anche l'inglese capirà anche il video, diciamo. Stavo cercando di trovare qualche piccola miglioramento su move, you know, 18 or 20. Ridicoloso, è più difficile e più difficile e più difficile. Necessa più e più computer, necessa più e più persone che lavorano per te, you know? Per quanto? Sì, e meno e meno... Per gli agenti. Sì, è ridicoloso. Giorgio, tutto, perché? 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 A lui sembrava ridicolo che, appunto, oggi si cerchi di studiare gli scacchi cercando di trovare una novità teorica, la ventesima mossa, cercando di avere un team, no? Che ci stia dietro, eccetera. Quindi, ecco, gli dava a noi la teoria negli scacchi. Sinceramente dava a noi anche un po' a me, devo ammetterlo. Ciao, ciao. Tu, tu, ti, tu, tu, ti, tu became world champion on creativity. Well, first of all, è stato un tempo fa quando spavare gli scacchi il primo giro. E anche il secondo giro è già un po' ago, 15 anni, è quasi 13 anni. e il testo negli ultimi anni ha cambiato drammaticamente con tutto questo strato di computer ma in realtà, se analizzate il testo obiettivamente, molto obiettivamente, è stato un gioco ma tornando anche al tempo di Morphe, c'erano molti libri ma ancora è un po' esagera, perché dice, ritornando anche ai tempi di Morphe, c'erano tanti libri ma avrà sicuramente ragione su questo, che esistevano tanti libri ma magari esagera nel dire che gli scacchi non sono più belli già dai tempi di Morphe questa è la sua opinione, non è la mia, quindi ora vediamo un po' la creatività, non è tutte le prearrangementi, tutte le teore non, non tutti, ovviamente non tutti, ho concordato ma perché vuoi vuoi essere involvati con qualcosa che è principalmente scritto e prearrangementi? ovviamente non è tutto questo, ma la creatività è magari numero 3 sulla lista il primo prearrangementi, poi la memorizzazione e poi la creatività è un posto al Fischer Random, poi hai pensato di mettere la creatività prima certo, certo, certo ora, come ben sapete, lui ha proposto anche una formula alternativa agli scacchi standard ovvero il Fischer Random, dove ci sono 960 posizioni di partenza e in quel caso, secondo lui, la creatività sarebbe al primo posto nella lista invece, in questo caso, negli scacchi come stanno andando ora la creatività è al terzo posto nella lista, dopo la memorizzazione e la preparazione comunque c'è, quindi secondo lui, un po' di creatività ma la preparazione, la memorizzazione dell'apertura conta troppo ed effettivamente gli scacchi stanno diventando un gioco sempre più meccanico ragazzi soprattutto più si sale di livello e più è così non venitemi a dire di no perché, dai, è così, si sa comunque il traduttore traduce malissimo, malissimo lui dice che gli scacchi 960 sono molto migliori degli scacchi standard non dice che sia una cosa perfetta, ma sono migliori per esempio, per esempio, tu puoi avere un milione di gioco come gioco, certo? magari un milione di gioco, magari un milione di gioco o 10 milioni di gioco sarebbe meglio che Fischer Andam ma il punto di gioco di Fischer Andam è è praticamente lo stesso che gli scacchi ma che ridere la teoria e è molto facile ricordare le regole questo è mio punto ma è un gioco più piccolo ma è un gioco più piccolo mi ha fatto un gioco un gioco di capablanca capablanca ha un gioco molto interessante che proposte che era 10x10 o qualcosa e ha due kings e extra pieces e tu puoi winci gioco con la gioco di gioco la gioco di gioco e è una gioco molto creativa ma è molto meglio che Fischer Andam ma è molto intimidato anche per me il topo gioco è molto intimidato con tutti questi extra pieces una grande gioco due kings se intimidate me io penso che può intimidare il migliore di gioco molto più quindi ci sono molti gioco che puoi con che hanno difetti pratici non quindi lui propone gli scacchi 960 perché hanno delle regole semplici praticamente uguali agli scacchi standard eccetto l'arrocco bisogna imparare come si fa l'arrocco però le regole sono le stesse i pezzi si muovono ugualmente rimangono gli stessi pezzi quindi è una versione molto migliore a quella proposta da capa blanca con due re con l'aggiunta di vari pezzi eccetera che risultava difficile anche per un campione come Fischer figuriamoci per una persona media dice lui invece le regole gli scacchi 960 rimangono semplici e a quel punto conta molto di più la creatività ora io ragazzi sono un po' di parte perché effettivamente Fischer è il mio giocatore di scacchi preferito chiaramente come persona poteva avere tanti difetti tante idee con cui non ero d'accordo idee politiche eccetera però appunto qui io dopo aver sentito queste interviste mi sembra molto intelligente questo questo Fischer insomma ora andiamo avanti è ma solo effetti in termini di scurruire la gente da l'apprendimento. Vedete, questo è il mio punto di fissurandum. Puoi apprendere fissurandum in 10 secondi, praticamente. Quindi non c'è impedimento, hai i stessi pezzi, i stessi pezzi, i stessi pezzi. Alla che hai bisogno di fare è un'elettronica shuffler, in un seconda hai una posizione. Ma ovviamente potresti creare più di fissurandum che fissurandum. Potrebbe, sai, un pezzo extra, un piatto più grande, tutte le cose. Ma la mia idea è che le persone pensano che sono anti-chess. No, non sono anti-chess, sono pro-chess. Sto cercando di mantenere vivere. Vedete cosa dice? La gente pensa che io voglia bannare gli scacchi, che io sia contro gli scacchi. No, io sono con gli scacchi, per gli scacchi. Vorrei mantenerli in vita e dare vita agli scacchi. Ecco perché lui va a proporre i scacchi 960. È molto... è solo il regolamento. Non sto arrivando con nulla cosa radicale. Ho chiesto due grandmastersi islantici l'ultimo giorno. Chi era il miglior giocatore della storia della storia della storia della storia della storia. E loro hanno detto che hanno contribuito, e ho chiesto di loro, obiettivamente, e loro hanno detto che Bobby Fischer sia il migliore giocatore della storia. Hai concordato con questo? Ah... voglio tornare a Fischer Random. Due grandi maestri islandesi pensavano che Fischer fosse il giocatore migliore al mondo. Lui dice, sei d'accordo con questo? Vorrei ritornare agli scacchi 960? Gli dice... No vabbè, comunque il... il traduttore è veramente terribile, ragazzi. Beh, ovviamente credo così, certo? Sì. Cioè... Durante la storia... Vabbè... 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 Vedete, ritorna sempre il discorso della teoria. Sono migliore di Morphy? Sì, sono migliore di Morphy, perché... Priconosco molto... Molta più teoria rispetto a Morphy, ma non è detto che Fischer avesse più talento di Morphy. Questo è un concetto molto interessante. Vabbè... 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 Non ha cosaniejsze con suo talento, e tutto il tempo, certo? Come tutto, nonEm�무... Quindi, però, quando sabes che sono migliore, C$0... Non significa nulla... Beh... Dopod gesù questa teoria... Nel C... Ma se invece fossi dire del P матym players, Comunque pensa comunque di sì che lui sia il più talentuoso di sempre anche Però è onesto, dice magari è solo la mia opinione Magari è solo la mia opinione Ma come ho detto, non mi piace di sfruttare troppo in l'ultimo chess Perché lo sfruttavo tanto Mi sento che quando sfruttando in l'ultimo, lo promuovendo in qualche modo Non voglio promuovere questo giro Il mio solo interesse nell'ultimo chess, ho un interesse, solo un interesse Per esprudere il prearrangemento, la gente vive in un mondo del sogno Quindi lui odia molto gli scacchi antichi, dice lui Comunque si riferisce agli scacchi standard, ragazzi Agli scacchi che giochiamo oggi, che si sono evoluti ancora Ovviamente si stanno evolvendo sempre di più Dove l'importanza del computer sta aumentando sempre di più appunto Gli scacchi sono una ricerca per la verità E io sto cercando la verità, dice Fisher E' molto interessante Quindi ragazzi, lui dice che per quanto riguarda il talento Dice probabilmente si, sono il migliore Ma chiaramente è difficile poi fare paragoni Gli scacchi erano un buon gioco 200 anni fa, 150 anni fa, dice Fisher Gli scacchi erano un buon gioco Sì, 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 è stato un buon gioco Ma sull'altra parte non era così buono come oggi No comparazione, ma è stato un buon gioco Quindi sì, già anche ai suoi tempi, quando lui è diventato campione del mondo Gli scacchi già non erano granché come gioco, dice lui Ma oggi è ancora peggio Lui era spinto dall'ambizione Dall'ambizione di vincere e di diventare il numero uno Però effettivamente la teoria era troppo importante Ricordiamoci, Fisher ha dovuto studiare come un pazzo Per poter diventare campione del mondo Ha praticamente sacrificato, dedicato tutta la sua vita agli scacchi Secondo me in realtà lui ama gli scacchi Va a dire che li odia, eccetera Perché appunto c'è questo piccolo particolare Memoria e preparazione sono troppo importanti Lui invece voleva che appunto la creatività fosse in cima alla lista Questo è il suo pensiero Infatti lui per rilanciare gli scacchi propone gli scacchi 960 Grazie a tutti Sì ecco ragazzi quindi avete capito come la pensava Fischer Chiaramente gli scacchi si evolvono Noi impariamo sempre dal passato Siamo sempre condizionati dal passato Penso quindi che per forza il nuovo campione Ad esempio oggi Carson che ha appena rinunciato al titolo Ma è ancora lui se non sbaglio il campione del mondo Carson è più forte di Fischer Come secondo me Carson è più forte di Kasparov Carson è più forte di Morphy Ok però se prendiamo che ne so Morphy, Fischer e Kasparov da giovane Li trasportiamo con la macchina del tempo qui in questo preciso momento Tutti hanno ad esempio la stessa età Non lo so 26 anni Ok mettiamo conto E a quel punto si vedrebbe chi sarebbe il migliore Cioè gli diamo tutte le conoscenze che abbiamo oggi Gli diamo Stockfish 15 Gli diamo tutti i libri Gli diamo i migliori allenatori ecc E vediamo poi chi riuscirebbe ad emergere tra di loro Solo in quel modo riusciremmo a capire chi è il più talentuoso Altrimenti è troppo difficile fare comparazioni e paragoni Non ha neanche tanto senso secondo me Per quanto invece riguarda gli scacchi Sì hanno preso questa strada Se non sono cambiati fino ad ora probabilmente ancora Non cambieranno per lungo tempo Dato che comunque non sono un gioco risolto E c'è questa piccola cosa Ma che ha un effetto enorme Ovvero che nonostante ad altissimi livelli Si facciano tante patte Basti vedere ad esempio i match per titolo mondiale Che ne so Karsen contro Karuana Karsen contro Karjakin Sì lì c'è stata una vittoria Una sconfitta Ma poi tutte patte Insomma E Il punto è che ci sono i computer Che hanno una forza troppo superiore Rispetto all'essere umano Quindi uno potrebbe dire Ok però Visto che i computer arrivano fino allassù Allora anche un essere umano Un giorno potrebbe arrivare a 2.900 3.000 Punteggio e lo fide Lo stesso Karsen sta cercando di arrivare a 2.900 punti E lo fide E poi chiaramente Oggi grazie proprio ai computer Possiamo praticamente giocare Qualsiasi apertura Se L'analizziamo bene con il motore Praticamente sì Praticamente quasi tutte Anche ad alti livelli Poi è chiaro che vengono scelte Le aperture migliori in assoluto Considerate migliori Come ad esempio la spagnola La siciliana Neidorf Perché alla fine ragazzi Parliamoci chiaro Vediamo sempre più o meno le stesse cose Ma Karsen contro Nepo Come avete visto Ha giocato linee Che venivano giocate 70 anni fa Non so se avete visto la strategia Che usa Karsen Per sorprendere gli avversari Se prendete le sue partite Spesso a volte esce fuori dalla teoria Anche dopo 8 mosse Ti gioca posizioni magari nuove Sono analizzate dal motore Ma lo fa di proposito Per andare fuori teoria Dove lui probabilmente prevale Perché è il più forte Questo è Ok quindi non so Fatemi sapere la vostra Su cosa pensate del pensiero di Bobby Fischer Io personalmente no Non odio gli scacchi Sono belli anche così Mi piacciono anche così Effettivamente Mi dà un po' fastidio Il fatto che la teoria Conti così tanto Perché secondo me Conta veramente troppo La teoria E non lo so Servirebbe una soluzione Effettivamente Anche a me piacerebbe Che il più talentuoso Il più creativo Andasse avanti Appunto Emergesse Diventasse un campione Voglio dire Però effettivamente Non è così Non è così Su questo Fischer Aveva ragione Ma gli scacchi Rimangono comunque belli C'è sempre Tanta competitività Anzi ce n'è Molta più ora Rispetto ai tempi di Fischer Rispetto ai tempi di Morphe Poi non ne parliamo E niente Grazie a tutti Per la visione di questo video Vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare mi piace Ciao E alla prossima Grazie a tutti